Tutto il popolo Emmaus si raduna ogni quattro anni e ogni quattro anni che possiamo arrivare al cuore del nostro movimento, alle radici del nostro movimento, per tracciare un percorso comune, per arrivare laddove non si è ancora arrivati e per buttare delle basi per delle cose anche grandi. E' un'occasione molto importante perché riuniamo tutti gli attori del movimento che sono nei quattro continenti, sono più di 350 gruppi quindi se tutti i gruppi riuscissero a lavorare bene insieme certamente potremmo ottenere i risultati anche politici di cambiamento rispetto alla lotta alla miseria e alla sofferenza. E' un'occasione molto importante. E' un'occasione molto importante. Questa chiusura che abbiamo, questa chiusura in noi stessi ci porta a fare solidarietà solo con noi stessi o con i più vicini. Ci porta a dimenticare tutto il resto della terra. E' un'occasione molto importante. C'è 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 un'occasione molto importante. Il gruppo del Brasile trae a questa Assemblea il comparto delle differenze.